No, no, direttamente Finito? No A me, a me siccome c'è il bug che mi fa vedere Sempre il primo, non so come si chiama il re A me, a me, a me, a me. No Assuramente no Allora, sei pronto? Qualcosa Mettiti sulla torretta, se vuoi Ma che figata Stiamo sul fan armato Stiamo sul Warthog dei cose Ah, il Warthog è una cosa Cioè sarebbe equivalente al Warthog Introdotto qua in Aro 2, mai visto prima Bellissimo come mezzo Via, che l'ha detto, regà? Ok, ce l'ha bisogno? Eh, Aro 2 Quando c'è fatto La collaborazione con Steam Vai Per la musica Quindi sì, ce l'ha bisogno Sì, sì, in originale non c'è qua Quindi hanno detto Bah, fa anche quel cazzo Eh, perché c'è la Franto che guida, eh Spara, spara, spara Guarda Guarda che a fondo dei nemici pericoli umani Oh cazzo Ho sbagliato, ho sbagliato signore Ho sbagliato No, quello è un problema Eh, dobbiamo abbattere per aprire la porta, mi sa No, via Anche qua in mezzo, un po' scassato Anche qua in mezzo, un po' scassato E poi c'è il tema di Aro buttato in mezzo Alla fine della meschina rata, bellissimo Un po' scassato Stato, sono armato Sei un bruco no ha toccato una cosa e si è girato mi è buttandoci vabbè almeno ce l'ha riparato dai mi sono ricordato qua il tasso del booster mi sono ricordato qua il tasso del booster mi sono ricordato qua il tasso del booster oh bene eeeh quello è stato complicato cosa è successo? ci ha sparato lo scorpion voglio quello voglio quel veicolo preso ho fatto il ghost andando qua bisogna abbandonarlo perchè si entra di qua dove? sulla base della struttura fiammeggiante no è entrato col ghost e mi ha caricato dentro diventa un po' complicato lo ghost qua è fatiglio sono inciampato cosa vuol dire sei inciampato? ho fatto l'attacco in salto per raggiungere la sentinella ma se non guardo io mi sono spaccato le gambe ciao un altro ahia il mio scudo ho scordato che anche lo usano i raggi della sentinella troppo gridi troppo gridi mi hanno punito sto andando avanti ma che differenza dall'originale è questo eh sì qua è molto molto diverso ma proprio cioè non potevi le texture all'epoca sei tornato in villa? sì ah ma così indietro sei io ho andato tipo avvantissimo sono trovati un'orda di gente da uccidere no c'è point on ecco a me era tornato indietro ma vaffanculo è sicuro che ho strada di qua non lo so io mi sono perso perché io la strada la sapevo se doveva andare dritto no doveva andare bene io sono andato da dove siamo arrivati ah ma sì sì ok allora vai 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 no pensavo scusa che tu stessi diverso quindi mi sono fatto colpire qua c'era la sentiniera grossa no sì l'abbiamo uccisa ok poi siamo andati di qua o di là come si va di qua ma se andiamo da due parti diverse quello che poppa l'altro ha ragione mi sembra una strategia prova di scemo allora qui questa è la stanza io vado su di qua che c'è di bello di qua come si va di qua vediamo ti ha poppato? no una volta checkpoint on ci sono dei nemici qua immagino che sia di qua un secondo antica tattica ganata ai piedi sto prendendo le sentinelle con la spada che bello sto vedendo sto vedendo sto vedendo sto vedendo mi sono andato mi sono andato ok ma c'è un tanazzocco sono sopra sto vedendo ha disgrutto tutto ma sono morto anche io Dopo un sacrificio ci hanno investito No, ho sbagliato, ho sbagliato Hai tirato dritto Eh no perché volevo affacciarmi per vedere se c'era qualcosa ma non c'era Ma farmi guidare Ok, fai di fai di fai di Ok, fai di fai di Non ho mai fatto Non ho mai fatto Non ho mai fatto C'è un altro là Molto male Penso io Guardami Sì No, fu una zona di abbastanza Ma Non posso saltare giù Sono bloccato Sei morto Riccardo La gravità mi sta sconfiggendo Non riesco a muovermi Posso solo fare l'attacco mele sul carro armato No, sei premier Eh, che non ce l'ho eh Eh vabbè in tal stazione Eh no, non fa niente, sono bloccato qua Ti potete ammazzare per favore Non ce la fanno ammazzati quei missili No, forse adesso ce la potete fare Ah Ero bloccato completamente Ok No, sono ancora qui sopra Che cosa succede? E ammazzami E ammazzami Oh, finalmente mi sono sbloccato Ah, finalmente mi sono sbloccato Vai Non mi sape, vai, è qua Va bene Perfetto Non metto i difetti Questa Vabbè, non ho dato dito però Non sto facendo niente io eh Sto andando dritto e sto coso si cappotta Dove ha preso la patente il tuo Arbit Vabbè, vado a bloccarmi di nuovo eh Eccomi No, no, no Non avevo mai visto questa cosa Sono andato sotto la sentiniera e mi hanno distrutto con lei Adesso l'ho bloccata di nuovo Non ho senso Eh Ovviamente Ma io ho visto una cosa interessante Ma qua qua? No, ma c'è uno scorpion Esatto Sarà giubile Sì Posso salire dello scorpion io? No Vai se vuoi Lo lascio No, ma dovevo salire a tutto sul cosmo? Non me lo fa fare? Nooo 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 Eh così ti si... Ma lui c'è seguito Vabbè se con me va... Poi ci paghi... Poi ci paghi... Vuol andare qui dentro Sì, ma di sì, sto io sul costo eh Beh, hai una freccia verde Beh, sono durato molto Comunque sì perché poi c'è una... C'è una... Una porticina Ricordi che è anche l'ambitagliatrice con l'altro È vero Però sei un dispensatore di morte senza condizione eh Nel 3 poi ci hanno messo un'ambitagliatrice esterna quindi... Puoi metterti sopra in due E sparare Però se ne sono accolti solo altri che forse era Bisognava migliorare Oh! C'è la neve qua nel 2 C'è nella grafica vecchia Qua no No perché è chiuso qui Ma... Ma c'è la neve che è chiuso? Ma quata fa? Eh perché è applicata a tutto e quindi... Si vedeva anche a chiuso Eccoci siamo noi due Calda Più umani Deve essere dopo l'Icon Dai stanno facendo ammazzare tutti i soldati Tipo eh Nel senso Arbiter Sì 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 C'è la cazzo quindi E ne hanno fatta un sacco con... non c'è l'ospecto che spara ah ma c'è uno con c'è un fratto con la spada bene adesso ci ammazza tutti mi hanno divelto c'era un altro di far con la spada notato ehi a chi è fatto fatto pulito pulito dove sono i fladdini stiamo arrivando in fondo dovremmo arriviamo di lato ronna ronna quanto ok grazie ah eri in mezzo eh si ho anche mi ha detto mio dio c'è torna adesso muoio cioè ero io o te chi prendeva prima la spadata ci ho preso a menare la spada in giro e bah oh vuole a morire i fladdini con la spada sono un po' forti andiamo tra l'altro contro i fladdini la spada si scarica molto più lentamente proprio perché ti caricano quindi ne abusi hallo la fanci come back out of here E quando fai la carica ti lancia Andiamo ad andare No siamo ancora in transito con la nave dietro Non mi ricordo se è qua o qua deve ancora andare su e giù Ancora andato qua Penso che qua dovrebbe attraccare Alla statoria c'è un bravo Ma c'è la signora perché sono entrati i deficienti? Perché tanto cioè Il capo della nave se non te rimani sulla nave Siamo in un film americano eh Ah che martedì che non ha detto nulla Giustamente è andato giù Nooo Gotcha You know your father never asked me for help either The index is secure Mackenzie Perez How's our exit? You hear me marines? We got trouble Oh E tre mediti ci sono molti tutti Fino ad arrivare qua No Johnson 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 sei bene? Johnson sei bene? Johnson sei bene? Ma non ti girare che stile Ti sta bene? Va Spende lui merito eh I hierarchi saranno per me E' la mia responsabilità E' la mia responsabilità Questa è la tua responsabilità E ora è la mia Un dolore L'ultimo chiede ti e il resto della tua rata incompetente E io Tartarus L'esterno delle Brute ti manderà a casa Non lo stesso che c'è nell'Infinite No 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 Adesso non facciamo razzisti dicendo Ah ma sono tutte uguali delle scimmie No no Eppure beh Comunque no Quello di Infinite è Da quello che lo sfuga